Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La depressione atlantica si posizionerà nel Mediterraneo, apportando instabilità sulle regioni centro-meridionali, in modo particolare sul lato adriatico, con conseguente calo termico e clima più fresco. Instabilità che durerà solo per la giornata di domenica, infatti a inizio settimana ci attende un clima più fresco asciutto. Andiamo ora a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 2 luglio. Cieli che al primo mattino risulteranno sereni o al più nuvolosi su Puglia centro-meridionale. Situazione diversa sul Gargano, Foggiano e Potentino che vedranno un drastico aumento delle nubi, con i primi rovesci a carattere temporalesco. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio peggiora ovunque sulle nostre regioni contemporanei rovesci a carattere sparso. La sera migliora nelle zone interne, ma saranno possibili ancora rovesci sparsi lungo le coste pugliesi e sul Gargano. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno un ulteriore calo di 4-5 gradi, con le massime che si manterranno sui 22-24 gradi. Le zone più calde, con 26 gradi, risulteranno il Salento e l'Arco Ionico, minimi e abbastanza fresche sui 16-18 gradi. Per quanto riguarda i venti, forti di maestrale, soprattutto sull'Adriatico, e mari, molto mosso l'Adriatico, mosso l'Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Alberto Calò per questo scatto che immortala al crepuscolo il campanile del Palazzo della Provincia, illuminato di arcobaleno sul lungomare di Bari. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.